Buongiorno a tutti lettrici e lettori, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary parliamo di libri. Oggi è l'ultimo giorno del mese, quindi torna IndieBooks, il progetto volto a far conoscere, a dare maggiore visibilità all'editoria indipendente. Ogni mese infatti si sceglie una casa editrice indipendente diversa e ciascuno sul suo canale o sulla sua pagina Instagram o sul suo blog recensisce un libro pubblicato proprio da quella casa editrice. La casa editrice scelta per questo mese era Utopia e io ho letto, come già vi avevo anticipato negli ultimi video, Il figlio di due madri di Massimo Bontempelli. Utopia è una casa editrice davvero giovanissima. È stata fondata, pensate, all'inizio del 2020 da otto ragazzi giovanissimi che nonostante tutte le difficoltà che vi lascio immaginare visto il periodo storico in cui la casa editrice è stata fondata sono comunque riusciti a realizzare il loro sogno, o vale a dire quello di dar vita ad una casa editrice che pubblica libri di qualità. Utopia pubblica sia narrativa che saggistica e propone autori sia stranieri sia italiani con un particolare occhio di riguardo al Novecento italiano. Quando ho esplorato il catalogo di Utopia e ho visto che erano stati pubblicati due romanzi di Massimo Bontempelli ho subito deciso di leggere uno dei due romanzi perché Massimo Bontempelli è un autore in cui mi sono spesso imbattuta e di cui ho sentito spesso parlare durante i miei studi e quindi ho pensato che questa potesse essere l'occasione perfetta per conoscere più da vicino quest'autore e leggerne direttamente le opere. Massimo Bontempelli è nato nel 1878 a Como. Il padre però lavorava per le ferrovie e di conseguenza proprio a causa del suo lavoro era costretto a spostarsi di città in città quindi durante la sua infanzia e la sua adolescenza Bontempelli cambia spesso casa, si sposta di città in città. Si iscrive alla facoltà di lettere, si laurea in lettere e inizialmente si dedica all'insegnamento dell'italiano nelle scuole. Successivamente poi abbandonerà l'insegnamento per dedicarsi alla scrittura in particolare si dedica alla scrittura di poesie e di racconti e è attivo anche come giornalista. Bontempelli poi partecipa attivamente alla Prima Guerra Mondiale e dopo la Prima Guerra Mondiale si trasferisce a Milano e qui stringe amicizia con altri importanti intellettuali del primo novecento in primis Pirandello e poi si lega sentimentalmente alla scrittrice Paola Masino. Negli anni venti del novecento Bontempelli si avvicina sempre più a quello che noi oggi definiamo realismo magico quindi ad una letteratura che resta sì agganciata alla realtà ma che non esclude la dimensione onirica, la dimensione del sogno e della visione. Inizialmente Bontempelli è un fiero e convinto sostenitore del fascismo ma ne prenderà le distanze nel 1938 dopo la promulgazione delle leggi razziali. E dopo la Seconda Guerra Mondiale Bontempelli continuerà a scrivere quindi a pubblicare racconti, romanzi, ad occuparsi di giornalismo e sarà anche attivo in politica. Il figlio di due madri è stato pubblicato nel 1929 quindi prima della Seconda Guerra Mondiale ed è un perfetto esempio di realismo magico. Il protagonista di questa storia, il figlio di due madri che dà il titolo al romanzo è un bambino di nome Mario che è nato all'interno di una famiglia dell'alta borghesia e che quindi vive in un quartiere esclusivo agiato di Roma. Siamo all'inizio del Novecento. La storia comincia quando Mario compie sette anni il giorno del settimo compleanno di Mario e la mamma per festeggiare decide di portarlo al parco e di giocare insieme a lui. Quando però Mario arriva al parco cade in una sorta di torpore di semisonnolenza e quando la madre lo riscuote da questo torpore, da questo stato di sonnolenza improvvisamente Mario non la riconosce più, non riconosce più né lei né l'istitutrice con cui Mario e la madre appunto erano andati al parco. Il bambino poi dice di chiamarsi Ramiro, quindi non risponde più al nome di Mario ma dice di chiamarsi Ramiro e chiede di essere portato a casa ma non alla casa dei suoi genitori chiede di essere portato in un appartamento di cui ricorda anche con precisione l'indirizzo a Trastevere. La madre ovviamente è spaventatissima perché crede che il figlio sia impazzito poi cercando di dominare l'ansia, di dominare l'angoscia decide di assecondarlo e di seguire le sue indicazioni e di raggiungere l'appartamento che Mario barra Ramiro dice essere casa sua. Quindi quando la madre e Mario giungono alla porta di quello che lui dice essere la sua casa si scopre che l'appartamento appartiene ad una donna chiamata Luciana Veracina che sette anni prima aveva perso il figlio proprio a quell'ora di pomeriggio a causa della febbre e quel figlio si chiamava Ramiro. Quindi sembra proprio che si sia verificata una sorta di reincarnazione quindi lo spirito, la coscienza di Ramiro sembra essersi trasferita nel corpo di Mario. Tutta la narrazione quindi ruota attorno a questo evento surreale. Il bambino infatti è figlio di due madri è Ramiro figlio di Luciana Veracina ma è anche Mario figlio di Arianna, così si chiama la mamma di Mario. I diversi personaggi che popolano questa storia reagiscono in maniera molto diversa a quello che sta accadendo. I personaggi maschili tra cui il padre di Mario e il marito di Arianna sono fondamentalmente personaggi negativi perché cercano in tutti i modi di dare una spiegazione razionale a ciò che invece razionale non è e oltretutto cercano di risolvere la questione comportandosi con estrema durezza cercando di far valere a tutti i costi il proprio interesse ragionando in termini di possesso e sono incapaci di provare la minima empatia, di mettersi nei panni di chi sta dall'altra parte. Dall'altra parte ci sono le due madri appunto Arianna e Luciana. Le due hanno ovviamente una percezione opposta dell'accaduto perché per Luciana quanto sta accadendo è un miracolo. Lei ritrova il figlio che sette anni prima era morto, mentre per Arianna quanto sta accadendo è una catastrofe, è una tragedia perché lei invece ha perso il suo Mario, ha perso il suo figlio. Ciò nonostante, quindi nonostante le due partano da punti di vista completamente differenti, in realtà il loro atteggiamento nei confronti di quello che sta succedendo è a fine. È a fine perché non cercano innanzitutto di dare una spiegazione razionale a quanto sta accadendo, semplicemente lo accettano. Certo per Arianna, la mamma di Mario, questo è molto più difficile. E poi non ragionano in termini di possesso, non cercano a tutti i costi di far valere il proprio interesse, ma sono piuttosto guidate dall'istinto, ma soprattutto sono guidate dall'amore, dall'amore per il loro bambino e più di ogni altra cosa desiderano che il bambino Mario Ramiro stia bene, sia felice, sia sereno. Bontempelli, quindi all'interno di queste pagine, nasconde una vera e propria critica a quella che è la classe borghese romana all'inizio del Novecento, che è incarnata proprio da tutti i personaggi maschili che troviamo all'interno della vicenda e che è una classe sociale materialista, incapace di empatia, ma soprattutto incapace di immaginazione e di fantasia. Sullo sfondo c'è ovviamente Roma, che è descritta in maniera molto suggestiva, attraverso piccoli scorci, però molto ben riusciti. E poi ci sono ovviamente le due case, da un lato la casa di Arianna e di Mario, che è una dimora elegante in un quartiere appunto lussuoso, esclusivo, e dall'altro invece c'è la casa di Luciana, che è molto più semplice, molto più spartana. Tutto il romanzo è dominato da un'atmosfera che non definirei onirica, ma comunque sognante, a tinte leggere, a tinte pastello. Ci si focalizza appunto su singoli scorci o su piccoli dettagli. La prosa è abbastanza elegante, ma comunque scorrevole. E il ritmo, per quanto non sia serratissimo, è comunque piuttosto sostenuto, piuttosto vivace. Quindi la storia si fa leggere, si crea anche un po' quell'attesa, quella suspense, e il lettore vuole capire come andranno a finire le cose. Quindi secondo me Il figlio di due madri è un romanzo che può mettere d'accordo molti lettori, a patto che però piaccia il realismo magico. Montempelli è un autore che sicuramente voglio approfondire e che mi ha incuriosito parecchio. A me il realismo magico piace molto, ho già recuperato Gente nel tempo, nel senso che ce l'ho già in lembreria, l'ho acquistato insieme a questo. E poi ho scoperto che proprio in questi giorni Utopia ha pubblicato un terzo romanzo di Montempelli, vita morte di Adria e dei suoi figli, se non sbaglio. Quindi top! Vi lascio qui sotto nell'info box il link al canale di Miria The Book Hunter, questo mese siamo solo io e lei che partecipiamo al progetto e vi lascio anche il link alla casa editrice, al sito della casa editrice Utopia. Come sempre se siete arrivati fino alla fine vi invito a lasciare un pollice in su e se vi va a lasciare un commento e mi raccomando se già non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati con i miei contenuti. Io vi mando come sempre un bacione ed un abbraccio e vi do appuntamento prestissimo al prossimo video. Ciao!